Il Museo Bodini non si ferma al tempo del coronavirus. È stata inaugurata domenica la prima mostra di un ciclo di quattro esposizioni che riempiranno per il prossimo anno la Casa dell'Arte di Gemonio. La prima mostra di quattro è un progetto Nuova Mostra del Museo Bodini per avere esistenza e nuova figurazione. Un progetto promosso da associazioni amici del Museo Bodini in collaborazione con Pugli di Gemonio, Archivio Bodini, Famiglia Bodini e con il contributo di Fondazione Comunitaria della Resolto. Una mostra in linea con quella che è la matura del del Museo, venuta da lo stesso Bodini che indagga questo periodo storico e i suoi protagonisti. Continua l'impegno della Fondazione Comunitaria del Marisotto al territorio, al territorio che sa esprimere cultura in un centro così importante che è il Museo Bodini. La Fondazione Comunitaria sostiene la cultura che in questi momenti così difficili, raguti alla pandemia, credendo che sia un elemento importante, un genere per poter riconunciare rispetto alla vita sociale che tanto è stata limitata in questo momento. Il progetto Nuove Mostre al Museo Bodini si tuffa negli ambienti milanesi del realismo esistenziale, a partire dalla figura artistica di Renato Galbusera, protagonista fino al 15 novembre. Attraverserà l'arte dei due maestri, Mino Ceretti e Piero Leddi, e chiuderà nell'autunno 2021 con il dialogo tra Floriano Bodini e Giuseppe Guerreschi sul tema del ritratto. Questa mostra presenta a corta l'opera di Renato Galbusera, un artista allievo e amico di Floriano Bodini, nato a Milano nel 1950 e viene la grande tradizione di nuova figurazione. Renato è un artista di attraverso il Novecento, parte dalla contestazione e arriva alla pittura morale, e arriva a capire come la pittura, sulle grandi dimensioni, riscoprendo la tradizione degli anni trenta, possa portare un contenuto politico e di impegno collettivo moderno.